Buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web. Oggi pomeriggio iniziamo un po' prima perché andiamo a presentare un seminario sui temi della prevenzione. Un seminario che si intitola proprio Prevenzione e Pilastro per monitorare la salute. Sarà appunto in onda da ora fino alle ore 18. Non sarò da sola ma in ottima compagnia. Infatti iniziamo subito proprio per parlare di questo argomento con un'introduzione del Presidente nazionale Mario Barbuto. Buon pomeriggio. Sì, il Presidente interverrà in un secondo momento. Interverrà in un secondo momento il Presidente, va bene. Anche la Vicepresidente immagino? No, la Vicepresidente no, solo il Presidente. Solamente il Presidente quindi poi mi direte voi quando potrà intervenire. Allora direi di cominciare con una delle persone che si è occupata naturalmente di questo seminario. Un seminario che è nato su sollecitazione di GDL3 e proprio sui temi della direzione Gruppo di Lavoro 3. Naturalmente GDL sta per Gruppo di Lavoro. Io darei subito la parola allora a Samantha De Rosa. Buon pomeriggio, Samantha. Buon pomeriggio a Chiara, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Slash Radio Web e a tutte le persone collegate qui su Zoom. Questo è un incontro molto importante che ho condiviso con le mie compagne di gruppo di lavoro che poi sentiremo anche... Marina Pulcini, sì, Cristina Minerva, certamente che volevo citare però appunto ho dato la parola a te ma poi loro le andremo a sentire più nel dettaglio. E questo è il mese della prevenzione, come abbiamo anche appena sentito dal giornale News. Il titolo, vorrei partire dal titolo di questo seminario, prevenzione e pilastro per monitorare la salute. La salute è importante la prevenzione perché la prevenzione ci aiuta a scoprire se c'è qualcosa che non funziona nel nostro organismo o se purtroppo veniamo colpiti da quella che è una malattia che sempre più spesso colpisce, ovvero il tumore. Quindi quando lui entra, entra in punta di piedi, non si fa sentire, però prima lo troviamo e prima possiamo sconfiggerlo. Per questo è importante la prevenzione. Io però con questo voglio dare subito la parola ai relatori e voglio dare spazio a tutti quelli che ci ascoltano per poter rivolgere tutte le domande che vorranno rivolgere. Ringrazio tutti i relatori che interverranno oggi e ringrazio le mie colleghe di gruppo di lavoro perché abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. Benissimo e allora iniziamo subito ad entrare. Sara, scusami, ti interrompo solo un attimo. Sono Alina e c'è qui Adoriano Corradetti, coordinatore del GDR3, che vorrebbe fare un saluto. Certamente. Buon pomeriggio Adoriano. Adoriano, buon pomeriggio. Arriva, eh? Sì. Ciao Chiara. Eccoci. Adoriano, buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio a te e buon pomeriggio ai radioascoltatori. Io come coordinatore del gruppo porto il saluto mio intero gruppo e ringrazio chi ha lavorato per questo evento. e diciamo in molto particolare le tre donne, Cristina, Alina e Samantha. E aggiungo altro un ringraziamento all'ufficio stampa, alla nostra segretaria Rita Zauri, che ha curato, diciamo, anche la parte grafica del manifesto. Con questo vi auguro buon proseguimento. Grazie mille Adoriano Corradetti. Allora, per essere stato con noi, per le sue parole, direi che possiamo iniziare dunque con il seminario. Entrando nel vivo, do la parola al professor Gianni Virgili, ordinario dell'Università degli Studi di Firenze, che si occuperà, parlerà dell'importanza della prevenzione analizzando gli aspetti e le ricadute sociali. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio e grazie dell'invito a presentare questa discussione. Il titolo che mi è stato assegnato è un'introduzione sulla prevenzione, comprese un'analisi degli aspetti sociali e delle ricadute sociali. Quindi mi sono rifatto a Wikipedia, che direi è sempre un punto di partenza quando si cercano delle definizioni, delle introduzioni, molto ben fatto. Quindi la prevenzione viene definita come un insieme di azioni e attività che vogliono ridurre la mortalità o l'incidenza di malattia, ovvero che mirano a determinati fattori di rischio di una certa patologia, quindi chiamate anche profilassi. Ed è quindi un'azione di promozione della salute e del benessere individuale e collettivo. La proposta è nota una nomenclatura, una classificazione in tre forme, primaria, secondaria e terziaria, ma è interessante anche il fatto che viene proposta una prevenzione quaternaria, di cui poi mi soffermerò. Quindi la prevenzione primaria è la forma più classica che si focalizza su interventi, spesso di tipo educativo, comportamentale, psicosociale, che vogliono prevenire l'insorgenza di una malattia o di un evento sfavorevole, spesso agendo sui fattori di rischio. Il classico esempio sono le campagne antifumo, quindi questa è la forma forse più comune di prevenzione, ed è la prevenzione primaria. La prevenzione secondaria invece non vuole prevenire l'insorgenza di una malattia, ma vuole diagnosticare precocemente una malattia, quindi in uno stadio più precoce che possa non impedire che venga identificata, ma anzi la vuole identificare appunto presto per avere il migliore esito, la migliore salute possibile, scoprendo e individuando la malattia. Quindi ovviamente lo strumento più classico è lo screening, e pensiamo agli screening della popolazione femminile sana come il PAP test o la mammografia. Vi è poi una prevenzione terziaria che è una prevenzione che viene degli esiti più avanzati legati a una malattia, cioè quando una malattia si è già verificata, con la prevenzione terziaria si vogliono impedire le sue complicanze o per esempio una recidiva di malattia per limitare la disabilità che viene generata. Ad esempio le recidive di infarto con farmaci che possono ridurre il colesterolo, abbassare la pressione, eccetera, sono una prevenzione di tipo terziaria. Ed ecco la prevenzione paternaria, che è un termine che viene definito come ormai accettato, ma certo non molto noto, che indica la prevenzione di forme di ipermedicalizzazione. Quindi lo scopo è di rifarsi un concetto di medicina che è sicuramente condiviso, di ottenere il massimo beneficio di salute e la massima qualità con la minima quantità di risorse e di interventi utilizzati, che devono essere utilizzati. Quindi il detto prevenire meglio che curare viene integrato con la precisazione quando prevenzione è meno dannoso di guarigione. Cioè paradossalmente esistono dei casi in cui tutto sommato una prevenzione e invece una cura possono essere entrambe delle opzioni. Quindi soprattutto questo con la prevenzione quaternaria si vogliono evitare, limitare danni causati dal sistema sanitario stesso, quindi secondo il principio che per prima cosa non bisogna nuocere, il famoso detto latino. Quindi quali sono i requisiti comunque di una prevenzione efficace? Beh innanzitutto il fattore di rischio deve essere comune e questo è frequente, pensiamo come potrebbe essere l'ipertensione oppure l'ipercolesterolemia e la patologia, se è prevenzione secondaria, compare in un numero di persone sufficiente nella popolazione a determinare un'azione su vasta scala. Poi dobbiamo avere dei test diagnostici che siano validi e utilizzabili sempre su vasta scala e che devono produrre, devono essere abbastanza precisi, cioè non devono dare, tanti così tecnicamente si chiamano falsi positivi e falsi negativi, un termine tecnico ma che possiamo immaginare, cioè quando uno testa è positivo uno screen oncologico, c'è comunque un impatto psicologico, ci sono dei costi, ci sono delle manovre che sono successive, come pure i falsi negativi, insomma, quindi è un bilancio complesso. Detto questo, una volta che è stato identificato un caso positivo con la prevenzione, è necessario avere le armi terapeutiche che servono a migliorare il suo percorso di salute e infine i costi rispetto ai benefici ottenuti devono essere competitivi con quello di altri interventi sanitari. Quindi passiamo in sintesi dalle fasi di possibilità, di presunzione di efficacia, di efficacia nel mondo reale e quindi di monitoraggio. Per questo, quindi l'accendo che facevo prima alla prevenzione quaternaria è un accenno che per i tecnici potrebbe per esempio identificarsi con la cosiddetta sovradianiosi, ovvero ad esempio l'individuazione di tumori poco invasivi che vengono sottoposti a chirurgia come nell'ambito di screening oncologici, pensiamo a quanto è stato discusso l'uso del PSA per la prosta, per individuare il tumore prostatico e quindi diciamo sono dei bilanci molto complessi. Quindi qual è la conclusione che propongo sulla prevenzione? È uno strumento prezioso che può impedire lo sviluppo di malattia quando è una prevenzione primaria appunto. realizzare un programma completo di prevenzione è compito su vasta scala unicamente di servizi di salute pubblica che sono responsabili di tutte le implicazioni di salute sociali ed economiche. Certamente il terzo settore ha una funzione fondamentale di sensibilizzazione, di educazione e di supporto e anche di stimolo ovviamente di rappresentanza civica e di rappresentanza delle persone, dei cittadini nei confronti di chi ha i compiti istituzionali di responsabilità sui sistemi preventivi. Ho concluso e ringrazio. Grazie a lei professore, allora io so che già sono arrivate delle domande infatti volevo anche diciamo iniziare forse a porgerne qualcuna però in realtà diciamo che essendo tutte domande su un po' su tutti gli argomenti forse è il caso di procedere prima con proprio tutti i relatori in modo tale che poi abbiamo un po' di spazio per le domande che appunto non sono poche ed essendo varie poi a seconda del tipo di domanda magari il professore o le dottoresse insomma rispondono per la loro competenza. quindi credo che siamo più o meno d'accordo anche con Samantha, Alina e Cristina procediamo invece con la relazione Scusa Chiara, si è collegato il presidente Ah perfetto, allora diamo la parola al presidente nazionale Mario Barbuto Buon pomeriggio presidente Non so se ci sente il presidente Vediamo un po' se riusciamo a parlare col presidente nazionale che voleva fare un saluto Mi sentite adesso? Eccoci, buon pomeriggio presidente Buon pomeriggio a tutti Brevissimo solo per intanto congratularmi con gli organizzatori per gli aspetti stimolanti di questo incontro Congratularmi con i partecipanti perché sicuramente è un argomento un insieme di argomenti che arricchisce e di molto le nostre conoscenze e le nostre competenze e ringraziare tutti e ringraziare soprattutto i nostri relatori che hanno messo a disposizione appunto le loro conoscenze e la loro capacità di divulgazione per darci una mano su questi temi riguardanti la prevenzione e i vari aspetti della prevenzione che sono temi molto importanti approfitto per ricordare anche che il 13 di ottobre si celebrerà la giornata mondiale della vista organizzata dall'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità è che è stato previsto un incontro a Roma presso la Regione, presso la Sala Tevere della Regione Lazio è un incontro di carattere divulgativo e conoscitivo sui temi che riguardano la prevenzione della cecità e la tutela della vista grazie davvero a tutti i partecipanti un augurio di buona continuazione un saluto e ci risentiamo presto grazie grazie a Presidente Nazionale Mario Barbuto per il suo saluto e allora ricominciamo da dove ci eravamo interrotti procediamo con il secondo intervento io passo la parola alla dottoressa Rita Travaglini per approfondire il tema della prevenzione ginecologica e senologica infatti la dottoressa Travaglini è medico di medicina generale specialista in ostetricia e ginecologia buon pomeriggio grazie, saluto tutti con molto piacere gli organizzatori che ci danno l'opportunità di fare veramente in modo pratico e concreto una prevenzione primaria questa sera perché quando si fa un intervento su più individui un po' in larga scala deve essere sicuramente considerata un momento di prevenzione primaria stasera volevo rivisitare un pochino quello che è lo screening per il tumore del collo dell'utero potremmo dire che è un argomento ritrito trito-ritrito risolto perché si è abbattuta molto l'incidenza di questo tumore ma così non è perché ad oggi in Europa rappresenta comunque la seconda causa di morte in giovani età nelle donne che hanno un'età inferiore ai 40 anni e in Italia muoiono circa 1500 donne l'anno per questo tipo di tumore perché dicevo rivisitazione? perché prima del 2006 l'unica arma per combattere l'insorgenza di questo tumore e le sue conseguenze era il PAP test PAP sta per le iniziali del suo inventore lo studioso greco Papa Nicolau che come spesso accade le scoperte sono del tutto occasionali mentre stava facendo degli studi sull'apparato riproduttivo si accorse che c'erano delle cellule che si coloravano in modo atipico e quindi mise appunto questo sistema che dagli anni 50 ad oggi ha abbattuto la mortalità di tumore del collo dell'utero addirittura del 75% e qui ci siamo rimangono i numeri 1500 giovani donne di età inferiore ai 40 anni che muoiono ogni anno è un numero alto che cosa succede dagli anni 70? me lo ricordo bene perché poi è stato l'argomento della mia tesi di specializzazione viene riconosciuto per questo tumore un'origine di tipo virale un virus appartenente alla famiglia dei papillomivirus e la sua correlazione con il cervico carcinoma è fortissima cioè una correlazione più forte anche di quella che c'è tra il tumore del polmone e il fumo quindi potete immaginare poi nel corso degli anni quindi a quale certezza si è arrivato allora i papillomivirus è una grande famiglia diciamo che il cognome di una grande famiglia è composta da più di 200 cugini e fratelli questi cugini e fratelli come accade in tutte le famiglie sono distribuiti in tre gruppi i buoni i medio buoni e i cattivi i cattivi sono quelli che ci interessano stasera perché è la loro persistenza nell'organismo che provoca questo tipo di tumore viene diffuso solo ed esclusivamente per via sessuale la sua presenza nell'organismo non comporta malattie assolutamente e in un numero maggiore dell'ottanta per cento dei casi regredisce spontaneamente in uno o due anni allora dice perché ci preoccupiamo tanto ci preoccupiamo perché in un venti per cento dei casi rimane un'infezione persistente e solo questa infezione persistente che potrebbe portare nel giro di molti anni anche fino a dieci anni all'insorgenza di un tumore quindi dagli anni settanta in poi che cosa è stato visto? è stato visto che i papillomivirus alcuni ceppi di papillomivirus ben individuati ben codificati ben ricercabili sono responsabili di circa il novantotto per cento dei tumori del collo dell'utero abbiamo detto che questo tipo di infezione si trasmette per via sessuale già con i primissimi rapporti e sono molto importanti i fattori protettivi come per le altre malattie sessualmente trasmesse però meno importanti queste norme di gene numero di partner nella promissività sessuale eccetera diciamo che mentre l'uso del profilattico o condom previene le altre malattie sessualmente trasmesse non ha la stessa validità il suo utilizzo per quanto riguarda le infezioni da papillomivirus offre una protezione limitata perché si può contrarre anche con il contagio attraverso zone non protette dal profilattico un altro importantissimo fattore di rischio è il fumo infatti è stato visto che l'azione della che la nicotina si concentra sulla mucosa del collo dell'utero fino a otto volte di più che addirittura nei tessuti bronchiali e fungerebbe da attivatore ed acceleratore per le modificazioni cellulare provocate dal papillomavirus e la persistenza soprattutto perché le lesioni precancerose sono provocate dalla persistenza di questi tipi tipi virali questo negli anni settanta quindi gli HPV quanti sono quali sono quali sono più pericolosi quali meno pericolosi nel 2006 visto la stretta correlazione fra il papilloma viene approvato il primo vaccino il primo vaccino che all'inizio era un quadrivalente cioè era efficace soltanto su quattro tipi di papillomavirus che erano i più pericolosi diciamo e oggi invece si somministra il novevalente diciamo che il vaccino è del tutto innocuo perché non viene non viene utilizzato il DNA del virus ma solo delle particelle proteiche del rivestimento è stato dimostrato che protegge ampiamente non solo dai tumori del colo dell'utero ma anche dell'ano della bocca e dell'oro faringe e protegge anche dalle forme non oncogene che sono i condilomi e le verruche come è strutturato in Italia questa somministrazione del vaccino allora dal 2006 viene proposto alle bambine prima che iniziano l'attività sessuale quindi a 12 anni viene fatta questa proposta attiva dai centri vaccinali che non è obbligatoria non è obbligatoria è solo una proposta attiva poi è stata estesa questa proposta si è allargata e arriva fino ai 25 anni di età e viene proposta anche ai maschi ai maschi perché quando possiamo fare anche la prevenzione dei condilomi comunque poi si riduce globalmente la circolazione del virus è molto più efficace la campagna di vaccinazione abbiamo detto che quindi prevenzione primaria il vaccino due dosi fino ai 15 anni di età perché la risposta anticorpale è molto forte e molto attiva poi tre dosi a distanza di tempo di 4-6 mesi quindi il vaccino per l'HPV prevenzione primaria poi c'è anche la prevenzione secondaria così come diceva già il professor Virgili la prevenzione secondaria in questi casi sono tutti quegli esami quegli accertamenti che servono a prevenire la comparsa del tumore cioè un intervento ad un livello così precoce quando ci sono soltanto delle alterazioni precancerose quindi come si organizza questo iter si organizza effettuando un HPV test un PAP test e poi una volta che si riscontrassero delle cellule atipiche sul PAP test un terzo livello che è costituito dalla colposcopia che è un esame diretto che prevede l'applicazione e lo studio del collo dell'utero dopo aver applicato dei coloranti vitali quanti sono i vaccinati in Italia i vaccinati in Italia prima della pandemia erano circa il 60% poi in questi due o tre anni si è ridotta il 40% quindi è un po' ridotta a chi viene proposta viene proposta alle giovani donne ragazzine adolescenti dai 12 ai 25 anni in forma gratuita più agli immunodepressi e a quelle donne di qualsiasi età che siano già state trattate per lesioni HPV correlate a dire il vero il piano di prevenzione di prevenzione nazionale prevedeva che entro il 2018 l'HPV test fosse diffuso a tutte le donne come diciamo anche a superare il PAP test quindi l'HPV test che evidenzia i ceppi virali ad alto medio rischio prima che si manifestino delle lesioni evidenziabili con il PAP test quindi che cosa prevedeva questo piano di prevenzione l'HPV test da 30 a 65 anni ogni 5 anni e il PAP test come sappiamo ormai consolidato dai 25 ai 65 anni ogni 3 anni chi deve aderire alla vaccinazione e anche cioè chi deve aderire alle campagne poi di screening di di con il test per l'HPV e il PAP test anche le donne vaccinate devono aderire perché c'è una piccola quota di papillomivirus che non sono considerati fra quelli sicuramente oncogeni che possono dare un'infezione persistente quindi anche diciamo questi sottogruppi di HPV meno cancerogeni se persistono a lungo nell'organismo potrebbero provocare delle lesioni e diventare oncogeno a questo punto quindi diciamo che la vaccinazione per il papillomavirus è fortemente raccomandata sia i maschi sia per le femmine che per i maschi perché diminuisce fortemente il rischio di tumore del collo dell'utero ma non lo esclude completamente l'esempio più virtuoso nel mondo è l'Australia dove su larga scala sono state applicate queste regole e praticamente hanno veramente abbattuto la mortalità per tumore del collo dell'utero ho finito grazie e mi sembra insomma che sono dati molto importanti e interessanti anche da da conoscere ringraziamo la dottoressa Rita Travaglini per averci dato questo quadro così completo di questo aspetto io direi che allora possiamo procedere anche con il terzo intervento questa volta si tratta della dottoressa Carla Cedolini chirurgo senologo e direttore della breast unit dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine buon pomeriggio dottoressa ecco buon pomeriggio mi unisco anche io oltre ai ringraziamenti anche al coro di complimenti perché davvero ho strutturato un periodo così per parlare della prevenzione in ottobre rosa che è veramente importante e con questa sequenza di relatori davvero è una cosa molto importante diciamo che la prevenzione in generale mai come adesso in questo periodo tra il covid e tutta la questa tempesta che ha investito la sanità ci ha permesso di capire che le nostre risorse non sono infinite quindi significa che prevenire alcuni tipi di tumore per quello che si può ecco farne una diagnosi precoce è ancora l'unico strumento che ci permette di curare davvero le persone meglio curarle bene e permettere loro di vivere la loro vita ecco io parlo della prevenzione in senologia ecco la senologia è diremo così la disciplina che ha una multispecialistica che si occupa delle patologie del del seno e segnatamente il tumore al seno diciamo che è la neoplasia più frequente per quanto riguarda le donne abbiamo circa 40.000 nuovi casi all'anno in Italia e di queste circa un quarto sono donne che hanno meno di 50 anni ecco e un po' di più quelle che hanno più di 70 anni quindi donne che sarebbero fuori da quelli che sono gli screening nazionali e regionali quindi significa che è un tipo di patologia che incide durante tutta la nostra vita e se volessimo fare proprio una valutazione numerica per capirci ecco è una donna ogni otto quindi questo rende l'idea di quanto sia impattante questo tipo di problema veramente fanno rabbrividire poi ce ne sarebbero di domande in merito questo è il cattivo diciamo diremo così la cosa brutta la cosa diciamo che ci induce a essere più ottimisti che se noi facessimo un grafico in cui si vede l'incidenza in questi ultimi 30 anni diciamo forse anche di più dal 60 70 in poi ecco per quanto riguarda il tumore al seno vediamo che è una curva che è andata crescendo praticamente in modo costante fino agli anni 2000 dove un po' si è stabilizzata mentre la mortalità nello stesso intervallo di tempo è andato sempre più scendendo e anzi dagli anni 2000 in poi davvero ha subito una caduta molto importante quindi significa che l'incidenza è aumentata però il tasso di mortalità è il complesso diminuito mi viene già una domanda non la voglio interrompere ora la faccio proseguire però che cosa significa questo significa che non riusciamo a prevenirlo più di tanto ma riusciamo comunque a curarlo curarlo meglio perché a differenza di quello che ha detto la dottoressa Travaglini nella sua bellissima relazione che mi ha preceduto mentre per il tumore del collo dell'utero esiste un fattore che noi abbiamo identificato che può causare questo tipo di problema per il tumore al seno in realtà la genesi è multifattoriale quindi è molto più complesso da questo punto di vista riuscire a prevenire la malattia riuscire a curarla a trovarla precocemente a curarla bene invece si sono fatti molti passi avanti diremo che tutto questo ecco questa forbice diremo nei due grafici è dovuta al miglioramento dei mezzi diagnostici e anche al miglioramento delle terapie tutto questo grazie appunto ai programmi di screening che a livello nazionale e soprattutto ogni regione ha promosso questo programma di screening invitando tutte le donne che hanno un determinato range di età cioè dove c'è il picco maggiore dai 50 ai 70 anni ecco con un invito personale a fare una mammografia ogni due anni questo naturalmente è diretto alle donne che non hanno fattori di rischio particolari come poi vedremo ecco e in alcune regioni tra cui la nostra adesso è stato esteso dai 45 ai 75 anni proprio per i picchi di incidenza nei nuovi dati quindi la diagnosi precoce è fatta in questo modo con gli screening ecco ci permette di trovare diremo quasi un 60% di tumori al seno di diametro inferiore ai 2 cm che pur non essendo la dimensione l'unico criterio di gravità diciamo riusciamo a trovarli non troppo distanti dall'insorgenza ecco se volessimo dirla in questo modo ecco per quanto riguarda gli strumenti diagnostici in questi ultimi 20 anni io mi occupo di sonologia da tanti più anni di quanto mi piacerebbe dire comunque sono tanti ecco diciamo che in questi 20 anni noi abbiamo assistito a un miglioramento esponenziale di quelle che sono le indagini diagnostiche che ci permettono di trovare cose sempre più piccole e di fare una diagnosi sempre più precisa inoltre abbiamo anche la possibilità attraverso la ricerca scientifica conosciamo molto meglio le cellule tumorali quindi siamo in grado ecco di fare per così dire una terapia mirata in base al tipo di tumore in base alla sensibilità a un farmaco o a una terapia o un'altra che hanno le cellule tumorali individuate circolarmente allora se volessimo parlare di fattori di rischio perché come dico qui è importante la prevenzione però dire come faccio a non farmi venire il tumore diciamo che è un discorso un po' più difficile diciamo che abbiamo i fattori di rischio modificabili sui quali noi possiamo incidere ecco quindi cercare di cambiare un pochino quelle che sono le nostre abitudini di vita cioè per esempio è importante ridurre l'obesità incrementare l'esercizio fisico fare una dieta povera di grassi e ricca di frutta e verdura ecco ed evitare alcune di quelle che sono le terapie ormonali che sono le terapie sostitutive per la menopausa evitare l'uso troppo prolungato di questo tipo di terapia ecco le terapie ormonali per la menopausa sono una delle cause ma noi vediamo molte donne che fanno magari fatica a concepire quindi si sottopongono anche a tantissime stimolazioni ormonali per poter avere una gravidanza ecco questi sono tutti i fattori che comunque incrementano il rischio e sono fattori che noi possiamo modificare cioè usare quello che possiamo perché anche per la terapia ormonale menopausa è importante per ridurre alcuni sintomi ma non esagerare poi invece ci sono quelli non modificabili cioè diciamo che sono l'età perché a partire dai 50 anni si incrementa il rischio dicevamo dai 50 ai 70 la storia personale quindi noi non possiamo scegliere in che famiglia siamo nati non possiamo scegliere la genetica le mutazioni genetiche queste si trovano adesso con molta più frequenza si cercano con molta più frequenza quindi si trovano vivere in occidente perché qui che viviamo e la durata della nostra vita fertile cioè non possiamo scegliere quando viene la prima mestruazione né quando andiamo a menopausa ecco se non facciamo se facciamo pochi figli o non ne facciamo affatto e non li allattiamo questo è un fattore che comunque incrementa il rischio un altro fattore che non possiamo scegliere è la presenza di alcune lesioni che adesso con i programmi di screening si trovano molto più facilmente che sono delle lesioni cosiddette in modo un po' grossolano non proprio scientifico ecco però sono delle lesioni che predispongono al tumore cioè quando ci sono delle cellule delle lesioni che presentano delle cellule che crescono troppo in fretta e poi alla fine presentano delle ATP e quindi è molto importante fare una diagnostica anche di queste lesioni allora diremo che nella mammella ci sono una serie di lesioni dico lesioni con intenzione perché ci sono molte lesioni benigne che noi conosciamo che spaventano un po' perché ogni nodulo ogni alterazione spaventa ogni donna però sono delle lesioni completamente benigne che ecco mai in medicina non esiste ma diciamo quasi diventeranno qualcosa di pericoloso diciamo è un micetto che rimarrà un micetto in vita sua ce ne sono alcuni invece che potrebbero diventare delle tigri e queste sono le iperplasie delle tutta una serie di lesioni non vi tedio con i nomi sono tutta una serie di lesioni che possono diventare neoplasie naturalmente non lo diventano nell'arco di un mese o due un anno ma nell'arco di molti anni però lo sforzo che noi facciamo di solito per trovare queste lesioni ci ripaga alla fine perché si riduce di molto il rischio allora io quello che di solito dico che il tumore al seno è come dire tumore al seno è come dire automobile i modelli sono un'infinità cioè noi abbiamo la 500 che va piano ha poca benzina e non è neanche molto potente abbiamo la Ferrari è tutto quello che sta in mezzo lo sforzo che noi facciamo chi lavora in questo campo è proprio cercare di identificare le singole caratteristiche del tumore e della cellula tumorale perché in questo modo noi siamo in grado di capire a che cosa il tipo di tumore è sensibile e con quali farmaci adesso ne abbiamo di molto efficaci di molto mirati noi possiamo bloccare l'andamento di questa malattia allora la chirurgia è solo una parte della cura del tumore al seno ma noi abbiamo bisogno anche di altre terapie anche di terapie farmacologiche di altre terapie diciamo così locoregionali tipo la radioterapia perché sempre per parlare di metafora come voi di metafora perché voi avete capito già che a me piace molto esprimermi così ecco è come se il chirurgo togliesse l'erba cattiva il radioterapista passasse buttando qualcosa ecco tipo un diservante che non permette alle cellule di crescere e poi la terapia farmacologica raggiunge tutti i distretti del nostro organismo dove alcune di queste cellule potrebbero essere emigrate perché il tumore al seno è una malattia del seno però da lì può andare ai linfonodi attraverso il sangue ad altri organi quindi noi dobbiamo togliere la malattia e impedire che questa si ripresenti in altre sedi quindi la prevenzione è importante proprio perché noi dobbiamo arrivare prima che la malattia abbia superato l'organo come dico è molto importante il programma nazionale regionale degli screening perché questo chiama sensibilizza le donne che non andrebbero mai spontaneamente a farsi una mammografia però anche la prevenzione deve essere entro certi limiti personalizzata cioè diciamo che le donne che non hanno alcun fattore di rischio non hanno famiglia non hanno nulla di quello che noi abbiamo citato possono tranquillamente aderire ai programmi di screening e non hanno bisogno di molte altre cose però noi quello che cerchiamo di fare è di personalizzare anche la prevenzione cioè prestare particolare attenzione alle donne che hanno familiarità quindi interessiamo e cerchiamo di indirizzare al giusto programma di screening le parenti delle nostre pazienti le figlie le sorelle le madri in maniera che per ogni tipo per ogni paziente per ogni persona noi cerchiamo di dare la giusta strada per la per la prevenzione diciamo che ci sono alcune persone per cui si deve forzatamente fare di più adesso se noi mettessimo in una gramide ideale ecco alla base stanno le donne con pochi fattori di rischio e all'apice stanno quelle come Angelina Jolie che ha sdoganato questa ecco questa pratica la vogliamo dire dottoressa per chi magari ci ascoltasse non sapesse cosa cosa ha fatto Angelina Jolie ecco Angelina Jolie diciamo ha detto pubblicamente sui social che nella sua famiglia c'erano state tutte queste morti per tumore al seno lei si è fatta analizzare il DNA e ha scoperto che ci sono delle modificazioni genetiche che la esponevano al tumore al seno e al tumore all'ovaio e quindi prima che insorgessero i tumori la nostra Angelina si è fatta fare la chirurgia di profilattica così si chiama cioè si è fatta togliere le ghiandole e togliere le ovaie ecco e questo ha sdoganato un po' una pratica che però non va bene per tutti se dovessimo ecco parlare di percentuali è meno del 2% delle donne che ha questa modificazione genetica però queste donne hanno nell'arco della loro vita la probabilità sull'80% di ammalarsi di uno di questi due tumori quindi molto alta ecco molto alta quindi per queste donne bisogna fare un po' di più che per quelle che hanno meno fattori di rischio la prevenzione si fa appunto con i mezzi diagnostici e se la domanda è esiste un mezzo diagnostico di quelli che noi abbiamo a disposizione mammografia ecografia risonanza tomosintesi mammografia col mezzo di contrasto eco col mezzo di contrasto termografia tantissime che ci sono adesso io potrei rispondere di no non ce n'è uno che mi fa trovare tutto è come se noi mettessimo un puzzle il bordo del puzzle che è quello che ci aiuta a costruire il disegno è l'ecografia e la mammografia che sono i due esami di base che vanno bene per tutti per le persone per qualsiasi rischio perché qualsiasi tipo di diciamo così tipologia di ghiandola ecco e poi in mezzo quando esiste il dubbio e non abbiamo la possibilità di chiarirlo ci sono tutti questi esami cosiddetti di secondo livello che attraverso somministrazione di mezzi di contrasto radiografie mirate in modo preciso e definito possono aiutarci a trovare non solo i tumori conclamati ma anche quelli che sono lesioni che diventeranno tumore che ancora non lo sono ecco poi è molto importante anche la visita senologica è importante che ogni donna sappia che esiste un medico specializzato che può fare la visita senologica che non solo interrogerà la nostra signora per sapere quali sono i fattori di rischio le farà le domande della famiglia sui cicli sui figli tutto quello che serve per inquadrare la storia clinica familiare e personale ecco però è un test che è poco sensibile per le neoplasie in fase iniziale in cui va meglio la radiologia ma ci sono una quota di neoplasia molto piccola in realtà però esiste che si sente quasi meglio a mano e soprattutto quelle neoplasie che insorgono fuori da quello che è diremo così la posizione anatomica usuale della ghiandola per esempio la mammografia potrebbe perdere alcuni nodule che si trovano sul solco sotto mammario o verso l'ascella quindi anche la visita è importante non solo per la diagnostica ma anche per inquadrare in quale fascia di rischio va la paziente e quindi cercare di fare la giusta la giusta prevenzione proprio personalizzata poi è molto importante anche l'autopalpazione ci sono una serie di manuali che spiegano benissimo come fare ecco io dico solo i punti cardine farli nel periodo nella donna fertile tra la fine del ciclo e l'ovulazione farli quando siamo insaponate perché il sapone crea un effetto che si chiama in scienza tensioattiva che come se facesse sparire la pelle ci facesse sentire bene la ghiandola sottostante e quello che noi chiediamo alle nostre pazienti quando spieghiamo l'autopalpazione non è distinguere cose che sono a volte difficili anche per il tecnico ma semplicemente individuare dei cambiamenti nel proprio seno che con il ciclo successivo non vanno via tutto questo deve essere comunque valutato e analizzato ecco se dovessimo dare così dei cardini alla prevenzione per noi sarebbe l'autopalpazione sempre perché quella va bene sempre la visita senologica una tantum o annuale viene fatta a partire dai 30 anni una tantum per sapere a che cosa dobbiamo prestare attenzione e in quale fascia di rischio noi rientriamo e capire quando dobbiamo cominciare a fare e con che strumenti fare la prevenzione e quindi la visita è importante per quello annuale per le persone che hanno rischi per le altre no soltanto al bisogno invece dai 50 ai 60 anni oltre alla palpazione la visita annuale o biennale a seconda del rischio personale e naturalmente qui la mammografia e l'ecografia vanno bene mentre per l'età più giovane diciamo al di sotto dei 40 di solito basta un'ecografia perché le radiazioni della mammografia sono comunque poche ma il seno di una donna giovane è molto meno visibile con la mammografia è molto più facile vederlo in ecografia e quindi ecco io mi piace pensare forse perché sono figlia di una sarta mi piace pensare che cerco di fare il vestito su misura sia per quanto riguarda la prevenzione quindi non come posso dire fa anche stimolano anche le donne che non sono malate a venire per sentire cosa devono fare quindi con la dovuta attenzione dare l'informazione giusta e anche fare la sarta quando si tratta di decidere che tipo di intervento e che tipo di terapia fare perché non va bene per tutti la stessa cosa cioè la terapia deve essere studiata sulle caratteristiche del tumore sulle caratteristiche della donna e sulle caratteristiche le aspettative che la donna questo è molto importante ecco questo approccio in tutte le breast unit che io conosco e quelle che vedo dei miei colleghi ci hanno permesso non solo di guarire di più guarire meglio e di far vivere le donne anche con tumore molto più a lungo ma anche di incidere su quello che è l'aspetto corporeo cioè il fatto di poter demolire ricostruire nello stesso tempo nella stragrande maggioranza dei casi è una cosa che dal punto di vista della paziente è molto importante perché quello che noi diciamo è che non guariamo tumori e non curiamo tumori curiamo le donne e cerchiamo di dare a loro anche la giusta ridare la loro giusta vita ecco per quanto riguarda anche la relazione ecco concludo subito io ho pochi messaggi da dire portare a casa cioè la prevenzione deve generare non deve generare ansia deve essere fatta perché noi dobbiamo conoscere la natura del nostro seno i nostri fattori di rischio che cosa dobbiamo prestare attenzione e a quali tipi di esami è meglio che accediamo qui gli specialistici possono essere molto d'aiuto ecco molte pazienti vengono da noi dice beh ma se pensa che non sia niente di grave perché devo fare una biopsia perché devo fare l'esame perché è importante dare un'etichetta a tutto perché a me piace dire che non è che tutto è niente tutto un tumore incidere quando c'è il passaggio dal gatto alla tigre secondo me è il momento migliore perché noi possiamo togliere il seme e impedire che si sviluppi ecco l'ultima cosa è importante questo non mi stanco di dirlo è che è importante sapere dove andare e che cosa fare ecco adesso con la normativa europea ci sono in ogni città c'è un centro specializzato in cui ci sono le persone che di questo si occupano e che hanno fatto di questo la loro missione quindi è importante rivolgersi sempre a specialisti competenti ecco io vi ringrazio e avrei finito grazie a lei dottoressa Cedolini e dunque io direi che prima di passare alle testimonianze una seconda parte se vogliamo un po' di questo di questo seminario procedere invece con la lettura di qualche domanda non so se penso che vada bene anche per Samantha Alina e Cristina quindi io andrei a leggere intanto alcune domande che ci sono che ci sono arrivate Giovanna Dalatina chiede cosa fare se si hanno familiari con patologie tumorali e quali sono le condizioni che consentono di attuare un programma di screening un pochino forse nell'ultimo intervento la dottoressa l'ha detto però non so se vogliamo ribadirlo credo che sia la dottoressa Cedolini a dover rispondere a questa domanda ecco diciamo che per quanto riguarda le patologie delle donne appunto i centri specializzati sono sicuramente più indicati e lì si può anche accedere appunto a programmi di screening personalizzati e per il tumore al seno come ho detto tutte le regioni hanno il programma di screening di base che è l'invito alla mammografia che sicuramente è molto importante e rilevante benissimo dunque Serena dalla provincia di Vicenza invece si sposta la sua attenzione la sua domanda sullo screening del tumore del collo dell'utero perché sono soggette a screening del tumore del collo dell'utero solamente le donne dai 25 ai 64 anni chiede e quali sono i fattori che predispongono al tumore del collo dell'utero e quindi quali strumenti e materiali vengono usati per l'esecuzione dell'esame penso di aver già dato delle risposte a questa domanda durante l'esposizione che ho fatto allora da 25 anni perché abbiamo visto che il tumore del collo dell'utero è dovuto alla presenza del papillomavirus papillomavirus che nel 90% dei casi regredisce nel giro di un paio di anni e che comunque per provocare delle alterazioni evidenti impiega moltissimi anni le armi che abbiamo a disposizione diciamo che fino ad oggi è stato esclusivamente il pap test ma deve essere sicuramente affiancato anche dalla ricerca del papillomavirus e sono esami molto semplici da effettuare perché nel contesto di una visita ginecologica il test per il papillomavirus si effettua passando leggermente un batuffolino simile agli scovolini delle bottiglie sul collo dell'utero si prelevano delle cellule e poi si manda in laboratorio è del tutto indolore e si fa in pochi attimi per quanto invece riguarda il pap test si fa un prelievo con una spatolina e una spatolina di legno e o di o di plastica e il solito il solito scovolino e poi si mettono in fase liquida per fare la l'identificazione di cellule che già in qualche maniera presentano delle piccole lesioni il terzo esame che avevo detto che è un po' di secondo livello che è la colposcopia una volta che vengono rilevate delle cellule non proprio normali sul pap test che poi vengono identificate come ASCUS oppure SIL di basso grado eccetera ancora molto tempo prima che si arrivi alle forme preneoplastiche consiste nel guardare con un microscopio direttamente il collo dell'utero dopo aver applicato delle soluzioni vitali come l'acido precloracetico e l'acido acetico e l'equido di Lugol quindi sono esami estremamente semplici non dolorosi e molto rapidi da effettuare perfetto anche a questo quindi abbiamo dato una risposta un po' più dettagliata diciamo riassuntiva rispetto all'intervento passiamo alla terza domanda che è molto più semplice però evidentemente questi sono discorsi che forse dovrebbero anche essere un po' affrontati con una maggiore insomma sistematicità nelle scuole mi viene il dubbio perché per esempio c'è qualcuno come Ginevra della provincia di Teramo che chiede a che età dovresti andare dal ginecologo la prima volta? Non so dal ginecologo si va la prima volta al ginecologo quando la persona è interessata ne sente l'esigenza nelle scuole allora a me è capitato spesso di fare un po' di divulgazione nelle scuole diciamo che l'attenzione dei giovani degli adolescenti è focalizzata su altri aspetti che non sono assolutamente quelli della prevenzione della malattia sono focalizzati sulle performance e quindi è un terreno è un terreno abbastanza sterile capito si va lì per fare un'esposizione una prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse così banali e magari poi ti chiedono sì ma quante volte è necessario avere rapporti in un giorno per non deludere il partner o la partner è a quel punto che rispondi è importante anche quello di aspetto senz'altro importante è che siano informati da subito su tutto però forse se si facesse in maniera sistematica è presente che diciamo le sensibilizzazioni nelle persone giovani e gli adolescenti specie oggi le aspettative sono di tutt'altro genere quindi molto spesso si combatte contro un muro di gomma capito quindi però l'importante la divulgazione è sempre importantissima dovrebbe essere sistematica a mio avviso a seconda delle tematiche proprio all'interno delle scuole in maniera una volta la prevenzione una volta altro tipo di aspetto più legato alla sessuologia e via dicendo comunque senz'altro ci sono le modalità e già alcune sono in campo Anna Maria si sofferma fa una domanda invece su un tema che forse effettivamente non abbiamo affrontato troppo nel dettaglio lei vuole delucidazioni sulla menopausa chiede quali controlli si possono fare in menopausa se è vero che la menopausa aumenta la probabilità di patologie legate alla tiroide e poi quali tipi di attività fisica sono consigliati per una donna in menopausa e se è possibile prevenire il prolasso dell'utero allora rispondiamo subito all'ultima domanda che è la più semplice il prolasso del collo dell'utero si previene con un travaglio di parto un espletamento di parto corretto e sono più predisposte le donne che affrontano dei travagli lunghi che non sono diciamo ben seguite durante tutto il travaglio quelle donne che hanno dei figli di peso di peso eccessivo e comunque questo iniziale problema se non viene corretto poi con gli adeguati esercizi di riabilitazione del pavimento pelvico tende a peggiorare soprattutto se si fanno degli sforzi fisici ripetuti per lunghi periodi e sommato soprattutto al sovrappeso a disturbi dell'intestino come la stipsi oppure si verifica anche nei bronchitici cronici nelle fumatrici perché la continua tosse aumenta tutto quello aumenta la pressione a livello della genitale lo facilita è abbastanza semplice questo è uno i controlli da fare in menopausa allora in menopausa si ridisegna un pochino si deve ridisegnare un pochino lo stile di vita perché durante la vita fertile ci sono diciamo quei fattori protettivi che sono rappresentati dagli estrogeni quindi le malattie cardiovascolari praticamente sono molto meno incidenti rispetto ai maschi poi con la menopausa viene meno questo fattore protettivo e c'è uno schizzo in avanti di tutte le patologie di tipo cardiovascolare questo è strettamente correlato ci risiamo ancora una volta con il sovrappeso con l'attività fisica veramente non praticata perché se si pensa che in Italia addirittura il 30% della popolazione è inattiva sotto il punto di vista dell'attività fisica che riduce le malattie cardiovascolari in un modo molto netto con una correlazione ben precisa anche rispetto alla presistenza o meno di altre malattie quindi attività fisica in che cosa consiste può essere diluita o durante tutta la settimana almeno 30 minuti al giorno con una intensità che faccia aumentare un po' la frequenza cardiaca oppure anche degli sforzi un pochino più intensi come la corsa diciamo un po' concentrato lo sforzo fisico è stato visto che sicuramente riduce la mortalità cardiovascolare poi molto importante è stato visto praticare questa attività sportiva all'aperto non per l'aria sana comunque la sintesi di vitamina D dovuta all'esposizione alla luce ma proprio perché c'è un'azione a livello dell'amigdala a livello di neurotrasmettitori cerebrali quindi fare attività fisica all'aperto diciamo che rende di più rispetto al farlo in palestra una cosa molto importante è fare anche un'attività fisica diciamo gravitazione dipendente quindi il ballo viene preso ad esempio anche perché fa coordinare i movimenti anche perché aumenta il senso dell'equilibrio e quindi in menopausa non si deve fare altro che accentuare tutto quello che è bene fare nel corso della vita per non rientrare poi nel discorso dell'alimentazione cibi permessi non permessi sale sodio frutta farine farine raffinate non raffinate cibi integrali digiuno eccetera questo è un po' il contatto dovremmo dedicare un periggio solo a questo argomento ed è vero che in menopausa aumentano le probabilità di patologie legate alla tiroide allora le patologie legate alla tiroide molto spesso sono preesistenti sono preesistenti anzi le patologie tiroidee inducono se non ben trattate nel corso della vita possono portare a un abbassamento dell'età della menopausa addirittura di due o tre anni sicuramente la donna che fa già terapia con ormoni tiroidei deve modificare andrà sicuramente a dover ricontrollare i suoi valori e modificare un po' la terapia non è che la menopausa di per sé induce patologie legate alla tiroidea ecco questa è una precisazione importante che magari non era chiara a tutti dunque cambiamo argomento torniamo a parlare di tumore Luisa chiede quali sono i segni per sospettare un tumore alla mammella e poi oltre al nodulo mammario esistono altri segni per sospettare un tumore al seno e il dolore al seno è sintomo di tumore ecco allora anch'io comincio dal fondo che è la più facile il dolore difficilmente è sintomo di tumore e tutti gli altri tutti gli altri sintomi prurito cose di questo genere ecco questo è molto raro che sia una patologia neoplastica perché queste purtroppo crescono in modo del tutto asintomatico ecco i segni per sospettare oltre il nodulo come dicevo delle lesioni che compaiano durante l'età fertile non vanno via col ciclo oppure delle alterazioni proprio nella consistenza del seno una retrazione o un cambiamento di forma del seno una retrazione del capezzolo un cambiamento della pelle ecco secrezioni sono di solito più pericolose quelle secrezioni di sangue o di siero continuo secrezioni dal capezzolo e a volte anche un gonfiore sotto l'ascella perché ci sono alcuni tipi di tumore che esordiscono con un aumento di volume dei linfonodi ecco senza parlare delle cose molto eclatanti che sono le ulcere per esempio e altre cose però tipiche di stadi avanzati ecco perfetto mi sembra abbastanza chiaro poi Maria Carmela dalla provincia di Messina sempre sul tumore al seno chiede come si fa la diagnosi precoce del tumore al seno ed esistono dei fattori di rischio questi li abbiamo già detti però andiamo a fare un riassunto diciamo che i fattori di rischio quelli su cui noi possiamo incidere ecco sono proprio le abitudini di vita e mi leggo a quanto ha detto la collega in precedenza un'abitudine di vita sana sicuramente aiuta anche per quanto riguarda non fumare non bere alcolici aiuta sicuramente anche per quanto riguarda la prevenzione del tumore al seno perché tutti questi fattori diminuiscono la capacità detto in modo molto grossolano però questo è il succo diminuiscono la capacità del nostro organismo di difendersi dalle dalle cellule neoplastiche diciamo ecco e naturalmente quelli che non possiamo modificare ripeto la famiglia la nostra genetica non la possiamo modificare però per esempio possiamo incidere appunto su quello che ecco dico il consumo di ormoni ormai non accade più però quando ho iniziato a fare questo lavoro tanti anni fa ecco vedevo molte signore che in questa illusione di giovinezza portavano avanti per esempio la terapia ormonale per 10-12 anni che è una cosa secondo me molto ad alto rischio ecco solo per dire delle cose degli agenti esterni ecco e la diagnosi precoce ripeto può essere fatta a ogni minimo dubbio un esame poco costoso zero dannoso e se in mani capaci è in grado di darci molte risposte è una semplice ecografia non è per nulla invasivo e di sicuro ci permette di di avere perlomeno un'indicazione sul cosa fare e spesso accompagnato dagli esami corretti in base all'età e in base alla tipologia del seno ci permette di fare una diagnosi corretta di lesioni anche molto piccole benissimo e questa anche insomma mi sembra che abbiamo potuto rispondere in maniera abbastanza esaustiva a questa domanda di Maria Carmela che è simile a quella che fa Anna Maria della provincia dell'Aquila perché anche lei chiedeva se era possibile prevenire il tumore al seno io a questo punto visto che a questa domanda abbiamo in modo già risposto vorrei integrarla soprattutto per parlare del fattore tempo abbiamo parlato della prevenzione purtroppo al di là della prevenzione attualmente c'è una denuncia da fare del sistema sanitario che non consente a volte tempi veloci questo ecco vorrei che fosse anche un argomento di discussione perché mi è capitato di poter ascoltare di poter insomma assistere a tanti pazienti che hanno avuto la possibilità di sapere di avere un tumore al seno ma poi hanno dovuto attendere tempi anche piuttosto lunghi magari per per l'intervento e soprattutto magari per i risultati dell'esame istologico ecco quando una paziente che si trova ad affrontare questo percorso traumatico deve accelerare i tempi deve cioè capisce che sta perdendo tempo perché anche questo è una uno dei punti anche soprattutto psicologici che vanno un po' a destabilizzare no allora diciamo che ecco l'attesa senza fare nulla cioè senza fare nulla da parte di chi ha in carico la persona nel senso che allora nel passato per esempio per quanto riguarda il tumore al seno la strategia era prima la chirurgia ecco c'era un intervento poi forse due cioè l'intervento demolitivo piuttosto che quello conservativo e poi si vedeva se cosa avrebbe dovuto fare la paziente adesso in realtà ecco è molto più complesso la preparazione preoperatoria però è complessa per fare la strada giusta per dire si fa la diagnosi si cerca di individuare il tipo di terapia adatta significa non solo la chirurgia ma anche le chirurgie le terapie farmacologiche ci sono ad esempio alcuni casi in cui è meglio fare prima le terapie tipo la chemioterapia per ridurre il problema e poi fare la chirurgia e anche per fare la chirurgia corretta è molto importante un'adeguata preparazione perché è sempre per è molto più difficile fare un intervento conservativo corretto che fare un intervento demolitivo tutto sommato è molto più facile però la spinta è quella sempre di cercare di conservare il più possibile se non riusciamo a conservare la ghiandola cerchiamo di conservare il capezzolo cerchiamo di ridurre al minimo la sportazione dei linfonodi ecco di ridurre al minimo la demolizione e le cure di dopo queste devono essere semplicemente mirate però l'attesa senza fare nulla perché per dire io porto la mia esperienza per noi noi ci mettiamo una quarantina di giorni dal momento della diagnosi a portare la paziente alla sala operatoria ecco lo standard però questo tempo diciamo va dai 20 ai 40 a seconda del punto a cui cogliamo la paziente se però la diagnosi la facciamo noi questi sono più o meno i tempi sono tutti tesi a poter concentrare in un unico intervento tutto cioè la demolizione la ricostruzione le terapie da fare e a dare la giusta tempistica alle terapie ecco è ripeto molto complesso per cui aspettare un mese o poco più secondo me per la maggior parte dei tumori non è un problema ce ne sono alcuni che però devono avere la giusta accelerazione mi viene in mente ecco una forma molto cattiva che è la mastite carcinomatosa che è una malattia che cresce non dico a vista d'occhio ma quasi che questa invece deve avere una strada veloce accelerata proprio per arrivare in tempo ripeto come posso dire la discriminante è proprio rivolgersi a persone competenti in maniera che possano fare il giusto percorso terapeutico preparare le persone e cercare di evitare il più possibile le correzioni in corsa di percorso non so se ho reso l'idea perché ecco è come io anche qui faccio sempre la metafora del sarto se io vado per non citare qualunque grande magazzino prendo il vestito lo porto a casa me lo tengo così com'è farlo invece su misura costa un po' di prove però è il risultato duraturo e più soddisfacente assolutamente assolutamente bene allora abbiamo ancora una domanda e poi cambiamo un pochino argomento tra l'altro ricordo a chi è collegato e volesse fare delle domande a chi ha ascoltato appunto gli interventi che può scriverci sia sotto il video della pagina di Slash Radio Web su Facebook ci può scrivere un'email a diretta chiocciola uic.it dove possiamo naturalmente andare a raccogliere le vostre domande tra l'altro ne approfitto per dire appunto all'ufficio stampa invece se per caso continuano ad arrivare delle nuove domande di girarmene come è accaduto per queste che abbiamo appena fatto ce n'è ancora una che però vado a dare Maria Rita da Roma chiede quali sono i controlli ai quali si deve sottoporre un paziente che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un carcinoma mammario quindi il post qui andiamo a parlare di quella fase terziaria che diceva prima il professor Virgili Allora diciamo che per le persone che sono state operate di tumore al seno i controlli continuano nel tempo allora io posso portare la mia esperienza che è anche basata sulla letteratura scientifica intanto la garanzia per i primi cinque anni di un controllo ogni sei mesi cosa vuol dire vuol dire che normalmente le persone operate al seno vengono seguite dal chirurgo senologo e dall'oncologo ecco ognuno di noi vede la paziente una volta all'anno in maniera che ogni sei mesi sia comunque vista dallo specialista oltre i cinque anni in linea generale salvo i casi specifici di alcuni tipi particolari di neoplasia e alcuni tipi particolari di terapia l'oncologo dopo cinque anni smette mentre noi continuiamo a vedere le pazienti una volta all'anno munite di eco e mammografia che devono fare annualmente ecco circa una volta all'anno diciamo dai 12 ai 18 mesi più o meno questo è il periodo questo è quello che viene garantito a tutte le pazienti che sono state operate di tumore al seno perché sono guarite dall'episodio cioè dal primo tumore però sono comunque delle persone che hanno un certo rischio di svilupparlo come tutti gli organi pari il rischio che fa ammalare un seno potenzialmente potrebbe far ammalare anche l'altro non sono solo i controlli è un attento monitoraggio che ci permette di prendere in tempo qualunque modificazione perfetto dunque andiamo adesso a dare la parola grazie grazie dottoressa per queste spiegazioni per la risposta naturalmente a questi quesiti vediamo se poi ce ne saranno ce ne saranno altri vado a dare la parola ad Alina Pulcini che fa parte proprio del gruppo di lavoro 3 che si è occupata come dicevamo prima insieme a Samantha De Rosa e a Cristina Minerva proprio dell'organizzazione di questo seminario perché con Alina introduciamo invece due importanti testimonianze quindi Alina ti chiedo di prendere la parola per presentarci le testimonianze e dirci un po' di più certo intanto grazie Chiara un saluto a tutti buonasera a tutti e ovviamente a chi è collegato con il via Zoom e agli ascoltatori di Slash Radio e grazie e ringrazio particolarmente i relatori che hanno messo a nostra disposizione il loro tempo e la loro competenza e con i loro interventi molto chiari ed esaustivi hanno dato degli spunti per la prevenzione ovviamente questo vuole essere un primo incontro e poi ne seguiranno altri con degli approfondimenti approfondimenti specifici abbiamo già visto che sono emerse dalle domande sono emersi appunto alcuni temi che poi approfondiremo sicuramente in incontri successivi anzi invito tutti coloro che ci ascoltano anche a segnalare eventuali eventuali argomenti che vorrebbero appunto che venissero trattati in ulteriori incontri perché quello della prevenzione è un tema fondamentale importante e diciamo che in questo primo pomeriggio abbiamo voluto affrontare la parte della prevenzione femminile quindi il cancro al seno al calutero eccetera ma poi ne affronteremo altri e soprattutto parleremo di stili di vita salutari che sono come abbiamo visto già oggi fondamentali per prevenire patologie più gravi sotto ogni punto di vista ora ci saranno delle testimonianze e in particolare cominciamo con una quella di Camilla che ha sperimentato osiamo dire sulla sua pelle quello che significa l'importanza della prevenzione quindi darò la parola a Camilla e invito poi tutti gli ascoltatori appunto e coloro che ci seguono a fare domande e a darci degli spunti per eventuali incontri successivi ringrazio ancora le colleghe Samantha De Rosa e Cristina Minerva che con me hanno voluto e fortemente e si sono spese per organizzare questo evento e ringrazio ringrazio Chiara e tutto lo staff della radio e ringrazio appunto tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento stesso ma soprattutto ringrazio voi che ci seguite e che ci dimostrate interesse e ora do la parola a Camilla per la testimonianza perfetto grazie a te Alina e allora buon pomeriggio Camilla ciao ciao a tutte un grazie anche da parte mia alle dottoresse che sono state molto molto esaustive sugli argomenti io racconto un po' la mia esperienza cercando davvero di non di convincere ma le donne a sottoporsi ai controlli e agli screening perché se io oggi sono qui e posso parlare lo sono grazie a uno screening che ho fatto a 50 anni che è venuto fuori un un problema al seno e oggi posso testimoniare a distanza di un anno e mezzo che diciamo che sto bene sto riprendendo la mia vita a volte sento ancora parlare le donne di di paura di ansia di non sottoporsi a questi controlli la prevenzione salva la vita ho scoperto di avere una tigre non sicuramente con l'autopalpazione ma con la mammografia e sono stata presa in carico dalla press unit di Ancona sono stata sottoposta a un intervento chirurgico non demolitivo e quindi anche come donna quando mi mi guarda allo specchio posso dire di non essere stata deturpata ho fatto un achemio che non è poco questo diciamolo perché insomma questo era un aspetto abbastanza importante spesso quando ci troviamo dentro gli ospedali dentro questi reparti soprattutto quanto effettuiamo i cicli delle chemioterapie il tempo il tempo si passa anche facendo confrontandoci no dalla mia esperienza è venuto spesso fuori questo discorso della anche dell'estetica della donna che è importantissimo a livello psicologico perché già il fatto di avere un tumore un po' ti cambia non hai più quelle certezze non hai più quella sicurezza vivi sempre un po' con con un'ansia velata però l'attaccamento alla vita deve far superare tutte queste paure perché davvero la prevenzione ci ci permette di vivere grazie grazie a te per questa testimonianza io ti volevo chiedere se se posso qual è stata diciamo da paziente la difficoltà maggiore che hai trovato nel in questo percorso se si può diciamo se c'è qualcosa che avresti voluto fosse andato nel meglio o quantomeno qualcosa che si può modificare personalmente io mi devo solo congratulare con la regione Marche io non ho non ho visto davvero nessuna pecca nell'organizzazione io ho fatto una mammografia sono stata ricondattata una settimana dopo mi è stato chiesto se volevo seguire il percorso screening io ho detto sì e da lì sono state le segreterie ad organizzare tutto il mio percorso e anche ad oggi i controlli di cui parlava la dottoressa sono sempre loro che mi fanno arrivare a casa le lettere per gli appuntamenti un'esperienza molto positiva non so se è dovuta all'organizzazione sicuramente ma anche alle persone che lavorano in questi reparti soprattutto noi siamo qui oggi nell'Unione Italiana c'è che io sono ipovedente e dalla mia esperienza c'è stato molto tatto anche per una persona fragile diciamo come come me ok perché infatti forse uno dei problemi che poteva essere anche legato al immagino a quello che tu potevi aver rilevato che a volte insomma si dice e si insomma ci sono delle testimonianze anche forse di non di non sapere bene anche come dire assistere spiegare ad una persona non vedente o ipovedente quello che si va a fare da questo punto di vista l'approccio con i medici come è stato è sempre avuto delle risposte ti veniva spiegato quello che ti veniva fatto anche questo è un aspetto che viene sottovalutato ma invece è importante perché spesso magari si danno per scontate determinate determinate cose che invece magari una persona non vedente ha bisogno che le vengano spiegate non mi sono sentita una persona diversa anzi una persona forse un pochino più seguita e coccolata comunque insomma ti hanno sempre spiegato e si sono sempre rivolti a te con il linguaggio adatto facendoti comprendere quello che avveniva quando come sicuramente ok questo è importante permettetemi di dire a volte si parla male del sistema sanitario nazionale in questo caso regionale la mia testimonianza anche su questo è che sono le persone che ci lavorano sono davvero da da dieci lode sono persone che impegnano il loro tempo non so se tutti lo farebbero così sinceramente quindi a volte forse dobbiamo smettere di criticare ma dobbiamo saper apprezzare il lavoro che c'è dietro l'organizzazione che non è una cosa semplice come diceva prima la dottoressa di Udine che non mi ricordo il cognome perché effettivamente l'organizzazione implica anche dei tempi nella mia nel mio caso dalla mammografia che ho effettuato il 29 marzo sono date che sono impresse io ho subito l'intervento il 28 maggio il 2 luglio ho iniziato la chemio quindi tempi penso abbastanza ceneri perfetto grazie grazie Camilla speriamo davvero in bocca al lupo buon proseguimento dunque Alina sì Chiara l'altra testimonianza sì l'altra testimonianza che Anna però purtroppo siccome veniva da fuori ha avuto problemi di traffico per cui si dovrebbe collegare via zoom ma probabilmente è in un punto dove non ha connessione e quindi sta dicendo che fa un po' fatica io direi di proseguire con le domande e poi magari se lei riesce prima della fine dell'evento si collega insomma in qualche modo volevamo anticipare un po' però la storia di Anna magari sì Anna è una signora anche lei che grazie alla prevenzione è riuscita ad aver diagnosticato insomma anche lei è una patologia abbastanza importante e che poi comunque ne sta ne sta venendo fuori come è successo a Camilla e quindi anche lei voleva dare una testimonianza positiva riguardo a questo proprio sull'importanza della prevenzione dello screening per prevenire e comunque anche per per curare e per fare in modo che determinate patologie vengano prese in tempo e quindi non provo più danni più gravi e irreparabili però ecco io ci terrei che fosse lei dalla sua voce a dirlo ma io la sua testimonianza l'ho sentita ed è toccante quanto quella di Camilla e quindi insomma ci terrei che fosse lei solo che purtroppo adesso non riesce a collegarsi perché ha la connessione che va e viene sperando che riesca prima della della fine del pomeriggio nostro insomma bene e allora speriamo che sia che sia così io dall'ufficio stampa non mi pare di aver ricevuto altre domande e anche qui sto cercando di capire se sulla nostra email è arrivato qualcosa ma non mi pare quindi chiederei a chi è collegato via zoom e magari non è intervenuto e ha delle domande magari per alzata di mano possiamo anche procedere con qualcuno dei partecipanti sulla piattaforma di zoom ma questo insomma vedo che che sia che ci sono diverse persone collegate chi parla ferruccio sento qualcuno che ha provato ad intervenire vogliamo fare per alzata di mano c'è qualcuno di voi perché vedo che siete tanti quindi ecco ferruccio no Samantha se vuoi Clara intanto che vediamo se c'è qualcuno che vuole fare domande posso posso portare anche la mia testimonianza certo assolutamente andiamo dall'ascoltare allora io appunto ho scoperto di avere un cancro al seno con una mammografia in screening inizialmente appunto c'è stato un percorso che prevedeva diciamo una un'asportazione solo di una parte però poi con avrei dovuto sottopormi alla radioterapia però quando è arrivato l'esito dopo il primo intervento dell'esito appunto che viene fatto della biopsia ok dell'orite logico sì ecco hanno rilevato che c'era un altro inquilino che si stava sì che non poteva stare e quindi ho dovuto sottopormi a un secondo intervento in questo caso abbiamo fatto praticamente ho dovuto fare la l'asportazione quindi la mastectomia e la ricostruzione che però è stata fatta nello stesso intervento quindi io quando poi mi sono svegliata diciamo avevo già appunto tutto ricostruito quindi non non c'erano appunto come diceva prima Camilla non dal punto di vista fisico poi quello psicologico è un altro discorso ma dal punto di vista fisico era tutto stato programmato e come diceva prima Camilla quando le hai chiesto appunto le cose da diciamo come i medici si comportano beh innanzitutto loro spiegano tutto nei dettagli addirittura io al chirurgo classico a un certo punto gli ho chiesto ma scusi ma come è fatta la protesi e mi ha detto beh quella non posso fargliela toccare perché non posso però è andata a prendere una si chiama un'espansora che viene messo in determinati casi che era simile e mi ha detto questo che così ho potuto sapere più o meno la forma e quindi glielo hai chiesto tu però sì sì glielo ho chiesto non ci ha pensato questo è anche il fatto che a volte comunque magari se uno chiede sì però c'è un approccio che magari è per una persona vedente di solito alle malattie questo mi domandavo non è un'accusa nei confronti medici ci mancherebbe altro però forse su questo mi possono rispondere anche le dottoresse se hanno avuto dei casi con persone non vedenti e se esiste anche una preparazione per affrontare la malattia e descrivere la malattia a persone che magari hanno bisogno di toccare o di sapere più nel dettaglio determinate procedure non vedendole non so tra le dottoresse chi mi vuole rispondere a questo visto che si tratta di quello che ha citato Samantha era della mia materia lo dico la preparazione non c'è lo dico nel senso che non esiste nemmeno una preparazione specifica per comunicare con i pazienti anche se ovviamente ci si sta lavorando ci si prova eccetera ecco si cerca di dare ovviamente tutte le informazioni dare dare qualche cosa di scritto che però non è strutturato per le persone non vedenti quindi lì si deve solo cioè per il momento è solo cioè solo parlare ecco ed obiettivamente ci si muove almeno per quello che è la nostra esperienza ci si muove un po' su quello che è la sensibilità personale ecco quindi l'idea ecco di avere una preparazione specifica purtroppo no questo è una pecca che abbiamo anche per quello che riguarda diciamo il reparto tecnico perché poi ricordiamoci che per quanto riguarda questo tipo di malattie l'incontro non è esclusivamente con il medico cioè c'è tutto un'equipa attorno no? sono tante le figure professionali che si vanno ad incontrare certamente ci sono tutti gli specialisti che intervengono nella cura della terapia appunto i chirurghi il plastico l'oncologo il radioterapista l'infermiera di senologia la psico-oncologa ci sono una serie di specialisti però diciamo tolto la psico-oncologa che probabilmente è la persona da questo punto di vista più preparata perché è proprio preparata per assistere le persone ecco in qualche difficoltà di qualunque genere ecco noi professionisti una preparazione specifica non l'abbiamo esiste una pletora di mediatori per tutte le lingue di aiuti per i disabili in carrozzina piuttosto che però obiettivamente per le persone non vedenti devo dire che come per i sordomuti come per appunto magari altro tipo di patologie di insomma disabilità che hanno bisogno di un supporto diverso esatto esatto soprattutto il fatto cioè questo noi cerchiamo di farlo ma è la sensibilità degli operatori cioè il fatto che una persona in qualche difficoltà soprattutto una persona non vedente almeno quello che è stata la nostra esperienza così anche di parte diversa della chirurgia è il fatto di doversi trovare in un ambiente totalmente estraneo ecco per fortuna le degenze nostre durano pochi giorni quindi con le relative difficoltà e magari spesso non avere la possibilità di avere vicino delle persone che possono essere in qualche modo di aiuto della famiglia o degli amici così e questo non è non è semplice insomma perché i nostri reparti non sono strutturati in questo modo ecco ripeto per altre disabilità devo dire di sì per questa confesso che infatti lo sapevo un po' per quello che chiedevo comunque per quanto riguarda altre domande che mi stanno arrivando visto che almeno della prevenzione visto che si è parlato anche un po' di controlli qual è la copertura territoriale mi chiedono di questo tipo di screening come di solito ci si deve comportare perché poi ci sono alcune cose che per fortuna aggiungo a proposito di sanità sono gratuite altre no ecco se vogliamo anche dare delle indicazioni maggiori su questo tipo di di analisi di screening di servizi gratuiti o meno lo screening regionale è per definizione gratuito ecco per quanto riguarda il tumore al seno è su chiamata attraverso i canali perfino i social il messaggino la chiamata telefonica eccetera su chiamata e identifica l'unico fattore di rischio che la regione può conoscere che è la data di nascita e quindi si identifica ripeto le donne dal 45esimo al 75esimo anno di età vengono chiamate ogni due anni e le viene già fornito l'appuntamento qualora ci fosse un problema come la signora seguita dalla regione Marche ha testimoniato il percorso viene portato in fondo senza nessun tipo di impegno da parte del paziente né dal punto di vista organizzativo perché vengono tutte fatte le chiamate strutturato il percorso né dal punto di vista così dei pagamenti perché è tutto gratuito ok perfetto se vogliamo dare un po' di dati anche questo mi era venuto in mente un po' di statistiche legate per esempio a quante persone vengono richiamate dopo una mammografia e poi soprattutto la differenza e un pochino l'avevamo accennata prima per quello che riguarda l'età tra le più giovani le donne al di sotto dei 40 e quelle al di sopra dei 40 e al di sopra dei 50 per mammografia ed ecografia così andiamo anche a insomma a definire più nel dettaglio i tipi di esami cioè diciamo forse non ho inteso bene la domanda la percentuale di richiami che vengono fatti dopo lo screening sta chiedendo questo o no sì intanto questo e poi la differenza tra mammografia e ecografia e perché insomma devono essere fatte entrambo solo una o l'altra allora diciamo che la percentuale di richiamo esiste una vasta letteratura scientifica allora faccio un passo indietro i radiologi che si occupano dello screening devono avere una specie di patente cioè non è che chiunque può fare il radiologo dello screening io parlo per l'esperienza regionale ma siccome ho partecipato tanti anni fa al confezionare un po' di questi protocolli diciamo che è universalmente riconosciuto che le letture sono due cioè sono due radiologi che devono avere nel bagaglio professionale un certo numero di mammografie lette all'anno vuol dire che devono essere persone di esperienza se i due pareri sono concordi la cosa finisce lì se sono discordi si passa a un terzo parere sempre di radiologi qualificati per lo screening vuol dire che sono persone che devono leggere migliaia di mammografie quindi di provata esperienza e per quanto riguarda le percentuali di richiamo diremo che ecco per esiste appunto una letteratura scientifica che dice che non si può richiamare troppo perché vuol dire che siamo abbiamo troppi dubbi quindi non siamo capaci e non si può richiamare troppo poco perché vuol dire che non li prendiamo quindi esiste adesso non saprei dire in questo momento stavo cercando sul mio computer ma siccome c'è lo schermo sopra è un po' difficile a maneggiare ecco ci sono delle percentuali ben definite ecco e quindi chi richiama troppo troppo poco viene diciamo un po' messo da parte per il programma di screening perché è considerato non adeguato il programma e non adeguate le persone ecco poi per quanto riguarda la differenza tra ecco e mammografia diremo che l'ecografia è un esame che va bene per tutte le età perché si basa su quello che è la morfologia della ghiandola e sulla vascularizzazione e inoltre noi lo facciamo con gli ecchi vuol dire che non ci sono radiazioni non ci sono mezzi di contrasto non ci sono problemi ed è l'esame di solito più indicato per le persone che hanno meno di 40 anni perché la ghiandola è molto densa e quindi la mammografia che si basa su un tipo di analisi diverso cioè sono delle radiazioni ecco diciamo che la ghiandola molto densa appare molto meno leggibile ecco quindi la mammografia va bene oltre i 40 anni l'ideale sarebbe mettere insieme dai 40 anni in poi entrambi questi esami però mentre la mammografia è una fotografia cioè vuol dire che si fa la fotografia e poi c'è il tempo di interpretare le immagini magari di approfondire così l'ecografia è un esame estremamente operatore dipendente quindi vuol dire che anche qui devono essere radiologi di provata abilità però io ho la fortuna di lavorare con dei colleghi che sono bravissimi in ecografia e devo dire che l'ecografia è uno strumento costo basso danno zero risposte molto importanti magari non definitive o non ecco hanno bisogno di qualche altro approfondimento però sulla diagnostica iniziale sicuramente è un mezzo molto importante inoltre è anche uno strumento importante perché quando esiste una lesione visibile in ecografia si fa la biopsia sotto guida ecografica ed è un esame pochissimo invasivo ecco e molto veloce in mani esperte sempre in mani esperte infatti anche questo è uno dei fattori di rischio che a volte purtroppo si è sentito che insomma uno magari controlli l'ha fatti però non sono stati a volte ravvisati non sempre insomma per colpa di tecnici diciamolo se posso solo raggiungere questo allora premesso che in medicina la certezza al 100% non esiste e che ahimè siamo persone umane quindi fallibili premesso questo ripeto l'importanza di rivolgersi a persone di esperienza è proprio perché se non capiscono hanno gli strumenti per capire ecco se non è chiaro certo chiaramente poi questo al netto dagli errori che possono capitare quelli ci sono sempre quant'è la percentuale di errore ecco allora andiamo a fare questa domanda forse ci serve di più parlare di numeri in questo caso no ecco su questo sono preparata noi abbiamo le nostre percentuali nel senso che ecco le percentuali di errore sui nostri controlli perché noi avendo tutto un criterio di come posso dire di accreditamento internazionale siamo soggetti annualmente si ha delle ispezioni e quindi questo è l'unica cosa sono impreparata sui numeri in generale ma i nostri sono inferiori al 3% che quindi ok quindi sono molto bassi cioè nel senso misunderstood non sempre ha capito il fatto di non vedere la lesione non sempre prenderla per quello che è ecco questo perfetto mi sembra piuttosto piuttosto chiaro allora io vedo non so io ribadisco per chi sta in collegato in zoom e vuole fare qualche domanda c'è ancora la possibilità vedo intanto però Cristina Minerva collegata non so se lei magari ci vuole dire qualcosa a fare qualche domanda qualche conclusione Chiara grazie anch'io ringrazio tutti quelli che sono con noi questo pomeriggio ad analizzare questo grave grandissimo e grave problema della prevenzione perché spesso ci rendiamo conto che già quando si parla di poter verificare il nostro stato di salute quando pensiamo di star bene siamo colti da forti ansie forti timori timori di trovare qualcosa che non va e io sono particolarmente sensibile a questo problema anche perché negli ultimi tre mesi sono stata ricoverata per molto tempo in ospedale sono stata operata due volte all'intestino per cui sono particolarmente sensibile a tutti i problemi che riguardano la salute spesso la salute che ci mette di fronte a degli ostacoli che neanche lontanamente prevedevamo o pensavamo perché spesso come si diceva le malattie agiscono per loro conto senza senza avvisarci senza determinare nessun cambiamento in noi quindi quello che noi Samantha Alina ed io avevamo in mente era di mettere proprio a disposizione di tutti una riflessione su quanto sia preziosa indispensabile la prevenzione anche se con tanta paura a volte tanta ansia però quanto di più si può avere anche con una diagnosi precoce voi lo capite benissimo ognuno di noi lo capisce benissimo perché tutto si può avere molto più facilmente si può risolvere molto più facilmente qualsiasi problema quando si sa immediatamente quindi con molto coraggio con molta forza e magari aiutandoci anche fra di noi quest'oggi per esempio abbiamo capito quanto sia importante avere le informazioni giuste nel modo giusto quanto sia piacevole ascoltare qualche rassicurante parola da parte di chi nella sua professione ha contatto costantemente con questi problemi io devo dire che questo è stato un pomeriggio per me molto gratificante molto gratificante spero anche per voi perché intanto abbiamo conosciuto persone che ci hanno messo a disposizione la loro competenza la loro forza la loro capacità e la loro esperienza grandissima in modo da renderci meno ostico qualsiasi problema qualsiasi problema di salute e poi e poi insomma ognuno di noi ha proprio il dovere di curare se stesso pensiamo che già 2500 anni fa Ippocrate aveva stabilito quello che serviva per star bene mangiare nel modo giusto le cose giuste e fare movimento pensate un po' al 2500 anni fa era già alla base di quello che ancora noi oggi riteniamo indispensabile quindi grazie tantissimo grazie alle nostre relatrici e ai nostri relatori perché ovviamente sono stati veramente molto chiari molto molto efficaci nella loro descrizione nella loro presentazione delle relazioni e ancora un ringraziamento a tutti gli altri a tutti quelli che sono qui con noi questo pomeriggio e speriamo di poter continuare con le vostre sollecitazioni ad approfondire ancora meglio e ancora più più che meglio ancora progressivamente ecco questi problemi perché noi di solito quando stiamo bene mai pensiamo a quello che ci può capitare nel corso delle nostre giornate e questo lo posso proprio dichiarare con la mia esperienza personale ancora adesso come devo testimoniare non sto ancora bene per cui dopo tre mesi di cure vi assicuro che comunque ho vicino delle persone che mi aiutano mi aiutano molto già a partire da Samantha e da Alina ad affrontare questi problemi che di volta in volta possono cambiare un pochino la nostra vita ecco quello che deve rimanere è la fiducia in quello che la vita ancora ci può dare e sempre ci può dare se siamo attenti ad affrontare immediatamente i problemi e vi ringrazio per questo pomeriggio grazie davvero a tutti grazie Cristina io volevo andare un po' a chiedere quali sono poi diciamo i prossimi lavori del gruppo di lavoro 3 se ci sono altri seminari in vista di questo sulla prevenzione che ricordiamo è caduto proprio nel mese di ottobre che è un mese dedicato nello specifico alla prevenzione proprio del tumore al seno e non solo però ottobre di solito viene considerato l'ottobre rosa il mese della prevenzione non so se Alina o Samantha vogliono dire anche un po' quali sono i progetti del gruppo di lavoro 3 se ci sono altri seminari in in vista se vogliamo ricordare qualche data o qualche evento in particolare adesso il prossimo seminario di cui andremo ad occuparci assieme al presidente di Arezzo è quello sulla giornata sulla violenza delle donne che sarà il prossimo mese di novembre e quindi questa è una data già da segnare da segnare sì da segnare in calendario sì sì e quindi inizieremo adesso a prendere contatti perché appunto prima ci siamo concentrati su questo seminario e quindi e quindi adesso faremo quelli e poi vedremo anche i feedback che ci arrivano anche dopo questo seminario però penso che è un tema che noi potremmo andare ad affrontare visto che è stata nominata più volte in questo pomeriggio sia dalla dottoressa Cedolini che dalla dottoressa Travaglini soprattutto che ha parlato di obesità di aumento del peso che la dottoressa Travaglini se non sbaglio ha detto che spesso in menopausa può succedere allora non so si potrebbe pensare di proporre in qualche modo un incontro su quella che è l'alimentazione anche perché in questa società sta sempre più cambiando non c'è più la sana alimentazione adesso ci sono molto più i McDonald's gli sportivi usano molte barrette quelle proteiche non c'è più l'alimentazione sana adesso non sappiamo quello che in realtà andiamo a mangiare se non andiamo a controllare bene i contenuti dei vari cibi che molto spesso compriamo già pronti e non sappiamo in realtà cosa contengono quindi potrebbe essere un'idea anche questa però ci dobbiamo lavorare mi pare che come sempre c'è tanta carne a fuoco e tanti argomenti da affrontare non so se Alina qualche notizia in più sul collegamento con la testimonianza no purtroppo no Chiara non riusciamo a metterci in contatto con Anna e mi dispiace tantissimo ma evidentemente è in un punto dove non prende neanche il telefono perché non non ci riesce a contattare quindi non non riusciamo proprio insomma a collegarci con lei in nessun modo e niente E allora prima di andare a diciamo a chiudere io ribadisco se tra i presenti che ne vedo parecchi collegati su Zoom c'è ancora qualche domanda approfittatene adesso così che possiamo possiamo insomma darvi delle delle risposte perché al momento a me altre domande non sono giunte quantomeno qui in redazione e mi dicono anche dal dall'indirizzo dell'Usposio Stampa e c'era Camilla che voleva un attimino intervenire per una seconda volta però ecco avevamo lasciato spazio agli altri ma certo può intervenire sì c'è il tempo per farlo era solo per una puntualizzazione vero Camilla sì Chiara sì eccoci a proposito della domanda su come sono stata trattata da persone un pochino più fragile no io sicuramente ribadisco benissimo anche perché è stato permesso il giorno dell'intervento nonostante eravamo in periodo covid che la presenza di mio marito perché per noi non vedenti o ipovedenti essere assistiti da una persona estranea è un po' complicato uno di famiglia sa sicuramente come come muoversi di fronte le nostre esigenze e dopo senti visto che siamo in chiusura io volevo ancora una volta ribadire a tutte le donne meno male la prevenzione non abbiate e non dobbiamo avere paura posso farti una domanda visto che ho la possibilità di farti ancora qualche domanda perché un po' di tempo c'è un altro aspetto che forse non abbiamo sottolineato e che magari in chiusura possiamo andare invece ad esaminare è l'aspetto psicologico nel tuo caso Camilla hai avuto un sostegno psicologico e come e questo lo rivolgo anche naturalmente alle dottoresse e al dottore in ascolto c'è un percorso psicologico che viene consigliato e garantito ad un cliente perché insomma ricevere una notizia del genere non è proprio una notizia semplice da gestire nel mio caso non mi è stato chiesto non so se è previsto penso di sì perché lì all'interno dell'ospedale c'era la sala rosa con il nome di alcuni psicologi quindi penso che debba essere interessata a farne richiesta ah perfetto è così è così dottoresse se qualcuna o dottore Virgini se qualcuno di voi medico ci può dire allora rispondo io per quanto riguarda la parte senologica diciamo nel nostro nel nostro percorso c'è quando viene data la diagnosi si dice alla alla paziente che esiste la possibilità di farsi seguire quando e come vogliono senza nessun impegno se non quello di chiedere l'appuntamento questo è un servizio fornito ok perfetto bene che questa può essere un'altra notizia utile per chi magari ci sta ascoltando appunto perché insomma magari o nel pre o nel post può sempre essere utile un aiuto bene allora chiara c'era comunque lo IOM che prospettava Alina la psicologica sì scusate io farei se tanto non ci sono mi sembra ancora domande e abbiamo qui Gigliola la presidente della sezione di Ascoli Piceno Infermo che Gigliola se intervieni un attimo spieghi un attimino questo progetto perché potrebbe essere interessante da replicare anche nelle altre sedi territoriali tra l'altro faceva parte anche di un progetto regionale che però è stato seguito nello specifico dalla sezione di Ascoli Piceno Infermo è proprio un progetto inerente alla prevenzione quindi credo sia importante insomma parlarne in questa sede buon pomeriggio a tutti ciao buon pomeriggio ciao allora noi pensiamo che la prevenzione e come è stato detto oggi sia la base per far sì che tutti possano anticipare quelle malattie che purtroppo quando arrivano sono sentenze allora abbiamo previsto nella giornata delle donne proprio un incontro con lo IOM sul territorio dove ci sta la Brexit dove c'è tutto il percorso giornata delle donne perdonami che cosa intendi 8 marzo l'8 marzo ok la giornata internazionale abbiamo fatto un incontro qui con lo IOM nel territorio e loro con i nostri soci soprattutto dopo la pandemia dove non si poteva fare prevenzione a seno ci hanno dato la possibilità che tutti quelli al di sotto dello screening dai 50 ai 70 potessero farlo e in quell'occasione noi abbiamo chiamato tutte le nostre socie e abbiamo dato questa possibilità hanno fatto dei canali predisposti per loro perché anche all'interno dell'ospedale era tutto bloccato per questo invece loro hanno avuto un canale specifico e in quel caso chiamando le varie socie ho chiamato Anna sonante che purtroppo ha in questo momento mi ha fatto un messaggio non si sente bene perciò non è intervenuta e in questo lei solo 37enne dice ma io non ho bisogno però vabbè me lo faccio e in quel caso gli hanno diagnosticato questo questa situazione che l'ha destabilizzata un attimo però è una ragazza coraggiosa quindi e quindi ha fatto il suo percorso e a oggi mi ha detto che ha ringraziato lo IOM di questa opportunità e purtroppo hanno visto che anche nell'altro seno c'è qualcosa quindi è sempre sotto tutoraggio dello IOM e quindi è una donna che sta facendo il suo percorso lo IOM prevede che ci sia lo psicologo danno parrucche danno anche la parte estetica da curare quindi c'è un po' un 360 gradi per questo e noi secondo noi comunione è un qualcosa che per i nostri soci è da continuare non si parla solo di prevenzione visiva che abbiamo fatto anche adesso ultimamente ma in tutto tondo perché soprattutto chi ha una disabilità come la nostra non sempre trovi le persone non sempre trovi come si può dire appuntamenti e tutto il resto noi cerchiamo di agevolare questo bene grazie per questa ulteriore informazione dunque Cristina Alina Samantha ditemi voi se volete puntualizzare dire altro altrimenti io andrei verso la conclusione guarda Chiara io volevo solo così anche prendendo spunto da quello che ha detto Gigliola ribadire un aspetto anche proprio entrando nel discorso delle pari opportunità l'abbiamo sempre detto siamo comunque donne che hanno una disabilità visiva quindi non vedenti non vedenti ma siamo comunque e sempre donne per cui il discorso della prevenzione il discorso del curare se stesse del dare attenzione se stesse a se stesse è fondamentale anche per noi come persone e come donne quindi anche questo aspetto di fare screening di fare prevenzione di curarsi anche da un punto di vista proprio psicologico nel momento in cui ci fossero dei problemi vanno affrontati con una forza maggiore per noi che oltre al problema in sé abbiamo anche quello visivo e quindi è un'ulteriore difficoltà che dobbiamo affrontare però ovviamente grazie anche alle persone che ci stanno vicino grazie anche a noi come Unione che appunto siamo vicini ai nostri soci come ha testimoniato Gigliola con dei servizi che possiamo essere in grado di dare tramite dei progetti con il territorio quindi tramite un lavoro di rete e proprio grazie a questo quindi riusciamo a darci e a dare alle nostre donne maggiore consapevolezza e maggiore sicurezza in se stesse e quindi a dare importanza anche al fatto di curarsi di tenere a se stesse sia da un punto di vista della prevenzione come stiamo dicendo in questo nostro incontro ma anche proprio da un punto di vista del benessere degli stili di vita salutari del discorso nutrizionale alimentare quindi faremo anche altri incontri su questo tipo di settore quindi appunto sul settore della corretta alimentazione e dell'importanza dell'attività fisica che è un po' trasversale in tutte le fasi di età non solo nella menopausa come diceva la dottoressa Travaglini prima ma anche per i giovani per le persone adulte per gli anziani che sono appunto modi di curarsi modi di dare attenzione a se stessi che sono fondamentali per volerci e per volerci bene è chiara posso dire anche io una cosa? certo è chiara sempre riferendomi anche a quello che tu hai detto approfondendo la situazione che può accadere a noi che abbiamo la disabilità visiva quando si entra in un ospedale quando si devono affrontare problemi sanitari certamente se ci fosse la diciamo l'abitudine di contattarci in modo chiaro specifico e senza senza mettere sempre in primo piano quello che è la nostra disabilità ma la nostra capacità di capire di comprendere tutto quello che viene detto e come viene detto sarebbe molto molto indispensabile perché come dicevo prima nella mia esperienza recente per quanto ci siano veramente infermieri e anche medici di grandissima levatura di grandissima preparazione quello che manca è la capacità di mettersi in confronto con persone con disabilità che loro non conoscono granché tipo ecco tipo la nostra disabilità visiva spesso viene sottovalutata per cui molto spesso l'ho proprio sperimentato io arrivano gli infermieri ci devono fare qualcosa lo fanno senza dirti niente era questo che io infatti gli chiedevo la vissima bravissima infatti quando tu l'hai detto io mi sono soffermata e ho riflettuto su quello che io avevo passato che avevo provato quindi questa diciamo questa ulteriore mia volontà di dire di raccontare è proprio per affermare quanto sia importante anche una preparazione di tipo di tipo pratico delle persone che sono operatori sanitari di ogni genere in modo da far diciamo da coinvolgere la persona non vedente o ipovedente in modo che sia completamente come diceva anche camilla che sia completamente coinvolta nella 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 sua nella sua operatività anche verso la guarigione verso la cura e spesso questo purtroppo non accade ma non perché non ci sia la volontà perché le persone generalmente sono bravissime persone ci sono poi come in tutti i lavori ci sono quelle più predisposte più capaci di ascoltare quelle un pochino più frettolose però se ci fosse una preparazione di base per tutti in modo che tutti quanti siano almeno in grado di affrontare il problema con una persona con disabilità visiva sarebbe per noi molto più semplice ecco affrontare qualsiasi tipo di problema eh sì direi proprio di sì abbiamo parlato con la dottoressa e giustamente diceva che non c'era una preparazione ad hoc su questo forse insomma sarebbe il caso di sollevare questa la questione è vero Chiara non parliamo poi del blocco che abbiamo avuto con il covid che ha messo in difficoltà tutto quanto ecco però ecco se ci fosse una preparazione di base per tutti e comunque diciamo che il Ministero della Salute lo prevedesse per tutti per qualsiasi disabilità io dico vabbè ovviamente sto parlando in questo momento della nostra disabilità ma per tutte le disabilità una preparazione specifica in modo da affrontare con qualsiasi persona il suo problema il problema così come lo può interpretare come può intendere come lo può superare bene grazie ancora grazie ancora per quest'altra testimonianza direi che possiamo andare alle alle conclusioni io volevo ringraziare tutti voi che avete partecipato il gruppo di lavoro tre che si è occupato con Samantha De Rosa Alina Pulcini e Cristina Minerva di appunto organizzare questo seminario sui temi della prevenzione ringrazio il professor Gianni Vergili ordinario all'Università degli Studi di Firenze poi la dottoressa Carla Cedolini chirurgo senologo direttore della breast unit dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine la dottoressa invece Rita Travaglini che è medico di medicina generale specialista in ostetricia e ginecologia per essere state tra i relatori di questo seminario ringrazio tutti coloro che hanno partecipato anche mandando delle domande che insomma alla fine risultano utili per tutti anche per i più timidi che le domande non le riescono a fare ringrazio il presidente nazionale naturalmente per essere intervenuto in apertura per averci ricordato anche un altro appuntamento quello del 13 ottobre con la giornata mondiale della vista e noi come slash radio web ringraziamo tutta la parte anche tecnica ringrazio anche l'ufficio stampa naturalmente nella persona di Rita Zauri con la quale mi sono interfacciata per la raccolta delle domande e quant'altro per questo pomeriggio al momento è tutto grazie da Chiara Mele Cargioli e grazie veramente a tutti voi